Le Marche ritrovano un simbolo d'identità. Questo sarà possibile grazie agli interventi che saranno realizzati per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche cittadine. I progetti ammessi a contributo regionale, che riguarderanno 11 comuni marchigiani, sono stati presentati a Recanati dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. Mura non solo da recuperare ma da valorizzare come simbolo identitario della nostra regione. Questo che cosa significa? Che le mettiamo in sicurezza, le ripuliamo, le valorizziamo ma diventano un grande attrattore per la nostra regione, un grande attrattore turistico e quindi un strumento fondamentale, una misura fondamentale per valorizzare il nostro turismo e per lo sviluppo economico della nostra regione. A disposizione complessivamente 4 milioni di euro da un bando che ha ricevuto oltre 40 richieste di adesione. È un bando sostanzioso come tutti i bandi voluti dalla giunta a Quaroli al fianco delle nostre comunità, al fianco dei nostri comuni, al fianco delle amministrazioni comunali che stanno al fronte ogni mattina per risolvere i problemi dei nostri concittadini. Quindi cerchiamo di essere al fianco dei sindaci e allo stesso tempo di valorizzare ciò che di bello le nostre città hanno e ci hanno lasciato i nostri avi. In questo contesto abbiamo borghi bellissimi, rocche, castelli e mura che noi vogliamo valorizzare e sulle quali abbiamo già investito per mura e valorizzazione degli spazi pubblici 15 milioni di euro. Continueremo su questa strada così come sul fattore, quello che noi chiamiamo fattore Q, ossia fattore qualità. Qualità nei progetti, qualità negli interventi, qualità negli investimenti e soprattutto quelli finanziati dalla giunta a Quaroli. I comuni che hanno ottenuto il finanziamento per l'annualità 2025 sono 11. Recanati, Sasso Corvaro Auditore, Sasso Ferrato, Fermo, Porto Recanati, Macerata, Pergola, San Benedetto del Tronto, Morro Valle, Pian di Meleto, Morro d'Alba. Oggi finanziamo 11 comuni ma abbiamo una gradatoria con ottimi progetti presentati da diversi territori quindi pensiamo di proseguire per la valorizzazione anche per altri progetti e per altri comuni.